In principio era il verbo, ed il verbo era presso Dio. Io ho detto che quanto al mio pensiero e credere, tutto era un caos. Cioè terra, aere, acqua e fuoco insieme. E quel volume andando, così fece una massa appunto, come si fa il formaggio nel latte. E in quel diventorno vermi, e quelli furono gli angeli. E tra quel numero di angeli vera anche Dio. 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 Dio.